Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi, domenica 4 febbraio, tanti auguri, anzi buona domenica a tutti quanti voi. Che cosa è successo sui giornali? Beh, insomma, ne abbiamo parlato un po' ieri sul sito nicolaporro.it, a caldo ho commentato la questione del raid razzista, così come oggi lo hanno definito praticamente tutti quanti i giornali italiani. Il Corriere della Sera, forse il più sobrio, raid razzista scuote l'Italia, cioè l'Italia scossa del raid razzista. Due i commenti dei giornali principali in Italia, cioè quello di Giannini su Repubblica e quello di Polito sulla Corriere della Sera. Entrambi partono dal clima di odio nei confronti dei razzisti che avrebbe creato una forza politica centrodestra, ma Giannini dice, ha ragione Saviano a dire che vi è una responsabilità morale in quello che è successo ieri, cioè che un 28enne sparasse a sei immigrati, dice Giannini c'è una responsabilità morale di Matteo Salvini. Polito invece sul Corriere della Sera, dopo aver bastonato il clima che si è creato, l'incapacità di Salvini di discernere tra immigrazione e immigrazione, tutto quello che abbiamo visto, dice abbiamo accettato e sdoganato i discorsi di odio, quindi dice su questo abbiamo un po' esagerato, dice Polito, ma non si può dire che Salvini sia il mandante morale. In questi due poli tra mandante morale, dice Saviano e mandante non morale, come dice Polito, c'è la discussione di oggi. La discussione di oggi quindi non è sulla sicurezza in Italia, non è su un delinquente invasato che spara a sei persone, la discussione è se è colpa o meno di Salvini. D'altronde anche Salvini dice colpa dell'immigrazione, se c'è questo pazzo, questo forse oggi non l'avrei detto, nel giorno in cui un pazzo cerca di ammazzare sei persone per il solo colore della perdita e forse io avrei evitato di dare responsabilità a chi che sia. Oggi no, avrei fatto ieri, lo farei anche dopo domani, ma oggi no. La cronaca di Buccini sul Corriere della Sera però non fa altro che mettere in relazione, devo dire che lo fa a pagina 2 del Corriere, quindi non è Salvini che lo fa, mette in relazione quello che è successo a Macerata, cioè che un signore ha iniziato a sparare all'impazzata, anzi non all'impazzata, cercando esattamente i nigeriani, con quello che ha fatto un nigeriano a una ragazza proprio lì vicino a Macerata, che era stata Pamela, che era rinchiusa, che è scappata da una casa di cura per tossicodipendenza, va bene? E sapete che cosa dice Buccini? Beh, insomma, ha sentito chiunque lì a Macerata, o comunque nell'arreroso conto che ha fatto sul Corriere della Sera, ci racconta di una Macerata che, non dico che stava col giustiziere, ma poco ci manca, esasperata da questi nigeriani, esplicitamente dai nigeriani, tra l'altro Buccini sente anche persone non italiane, ma immigrate regolarmente in quelle città, in quelle zone in cui ce l'hanno contro questi nigeriani per spaccio, droga e prostituzione che avrebbero portato. Questa è la cronaca di Buccini. Poi ovviamente ci sono quelli che se la prendono con Salvini per motivi elettorali, la cosa che Saviano può dire è quello che gli pare, fa l'analista, il politico, il giornalista, insomma fa gli affari suoi, ma quello che mi sembra molto, direi, del tutto sconvolgente, si fa per dire perché ne sono molto poco sconvolto, è che la seconda e la terza carica dello Stato, cioè la signora Boldrini e il signor Grasso, seconda e terza carica dello Stato, cioè due persone che è vero che sono in liberi uguali, ma fino a prova contraria non si sono dimessi dai loro ruoli istituzionali, attribuiscono a Salvini una responsabilità per quello che è accaduto. È una cosa di una gravità quella di dare a Salvini la responsabilità di quello che è accaduto, che ha poco a che fare con le manifestazioni di quattro imbecilli che su Facebook fanno il fotomontaggio sulla Boldrini o che danno fuoco a un pagliaccio, peraltro in una saga cicattadina in cui sempre si danno fuoco a pagliacci, ovviamente non si dà un fuoco a un pagliaccio con l'infige della Boldrini e non si fa vedere su Facebook la Boldrini con il sangue, cioè sono cose disgustose, ma una cosa se lo fanno dei cretini che non hanno nulla a che vedere con la politica, una cosa se questi atteggiamenti da bulli, terroristi mediatici, perché dare del responsabile e chiedere a Salvini di chiedere scusa su quello che è avvenuto a Macerata è terrorismo mediatico, cioè gli stessi odiatori che ci sono in rete, se queste due cose, questi due atteggiamenti ce l'hanno la seconda e la terza carica della Repubblica, un po' mi preoccuperei in che mani siamo messi in questa Repubblica. In realtà la linea della destra è colpa dei clandestini, la linea della sinistra è colpa di Salvini, insomma mi sembra una situazione piuttosto ridicola dalla quale Berlusconi e Renzi si sono secondo me egregiamente smarcati in queste ultime ore. Belpietro e Sallusti invece ovviamente attribuiscono, hanno una posizione diciamo pro Salvini sui loro giornali, molto interessante la posizione di Gervasoni oggi sul Messaggero, cioè dice una cosa a cui io non avevo riflettuto, ragazzi stiamo attenti perché è una cosa incredibile quello che è avvenuto sulla morte di questa ragazza Pamela, uccisa, si presume ma gli inquirenti sono abbastanza certi, anche qui io userei condizionale perché la giustizia italiana sappiamo come funziona ma sappiamo anche quanti errori fa ma sarebbe stata uccisa e poi divisa, sezionata e chiusa in due valigie diverse da uno spacciatore nigeriano al quale sono stati trovati il sangue della vittima a casa sua e i vestiti della vittima a casa sua. E quello che dice Gervasoni è, dice scusatemi ma attenzione perché i giornali per prudenza, per non pensare di essere considerati razzisti, per politicamente corretto, nei giorni scorsi sapete che cosa hanno scritto? Hanno scritto, non hanno scritto che era un nigeriano nei loro titoli, non hanno scritto che era un immigrato senza... perché avevano paura di urtare la suscettibilità. Gervasoni tocca un tasto molto sensibile, ce la prendiamo con Salvini perché alimenta l'odio e noi giornalisti non scriviamo che quello che avrebbe ammazzato la ragazza italiana era un nigeriano perché abbiamo paura in questa specie di finta, ipocrita, correttezza politica di essere in questa maniera di tutelare l'immigrazione che è sempre buona, cosa buona e giusta, va bene? Io la trovo una cosa incredibile, c'è ragione Gervasoni. La mamma di questa Pamela oggi parla al messaggero in un'intervista fortissima, dice da madre colpita, dice la madre di Pamela, posso capire l'esplosione di quella rabbia, ma ha colpito degli innocenti. Chiaro, la mamma di Pamela dice una cosa sacrosanta, cioè posso capire quella rabbia, ma la cosa incredibile è che ha colpito degli innocenti, degli immigrati innocenti che sono stati sparati. Io non la posso neanche capire perché non si esce con la pistola e si spara, è fuori di dubbio, non si spara. Certo, se uno subisce una violenza di quel tipo ragiona come la mamma di Pamela che in un pezzo dell'intervista, ve la devo veramente dire, dice io mi auguro che questo nigeriano che ha fatto a pezzi mia figlia non sia tenuto in isolamento, ma che venga messo in una cella comune per chi so i detenuti come si comportano in casi simili, come per dire lo meneranno, lo corcheranno di botte, insomma quella madre ha nei confronti di questa persona che ha fatto a pezzi sua figlia l'odio più comprensibile che purtroppo tutti noi possiamo avere nei confronti di uno che usa quella violenza nei confronti della figlia. Saviano, shock, non uso a caso questo termine, oggi sull'Espresso, l'Espresso del 4 febbraio, ve lo leggo, parla nella sua rubrica l'anti-italiano che un tempo era di Giorgio Bocca, oggi è diventato di Saviano, poi uno si chiede perché i settimanali non vendono più una copia e in questa rubrica Saviano parla di quel straordinario paese in cui sono stati fatti arrivare 20 immigrati perché non c'è la demografia, non ci sono giovani nascite e quindi grazie al cielo sono arrivati questi giovani immigrati e questa scelta fatta dal sindaco così la descrive Saviano, sentite lo leggo bene, il sindaco senza indire alcuna assemblea cittadina perché si sa nel mucchio vincono le paure e perde il ragionamento. Avete capito il concetto di democrazia che c'è Saviano? Nel mucchio, cioè l'assemblea cittadina sarebbe il mucchio, nel mucchio vincono le paure e perde il ragionamento. Io posso essere anche d'accordo che nelle masse, nelle piazze, nelle manifestazioni si possa perdere il ragionamento, ma se questa è l'idea della democrazia, cioè che un sindaco fa le sue scelte senza indire un'assemblea cittadina perché nel mucchio vincono le paure e perde il ragionamento, che idea di democrazia c'è Saviano? Quale idea c'è di democrazia? Cioè del fatto che qualcuno può non pensarla come lui e ci può essere una maggioranza che non la pensa anche lui. Vabbè, possiamo anche metterci tutti d'accordo, la democrazia è una stupidaggine, ma allora insomma mi diventa anche un po' ridicola questa critica al fascismo e ai fascismi che rivedere quella parte. Insomma, la retorica della democrazia diretta, la retorica della democrazia qua l'abbiamo persa. Il sindaco senza indire alcuna assemblea cittadina, per chi si sa nel mucchio vincono le paure e perde il ragionamento. Questa è la nuova frontiera della scelta che deve fare un sindaco senza sentire i propri cittadini, senza ascoltare le proprie piazze, senza ascoltare l'assemblea cittadina, perché le paure e i ragionamenti si perdono. Insomma, questa idea della democrazia un po' fascista mi fa veramente ridere. Altra questione è le parlamentarie, 40 mila votanti, arriviamo sul Movimento 5 Stelle, 490 le preferenze che ha avuto Di Maio per essere candidato, ma insomma c'erano pochi dubbi che venisse candidato e c'è la questione di Dessi. Oggi su tutti i giornali c'è il concetto di questo candidato che pagherebbe 7 euro per la sua casa popolare e Di Maio tuona, non è uno dei nostri, non si deve candidare. Insomma, avrebbe rinunciato alla candidatura, leggiamo negli ultimi minuti, ha rinunciato alla candidatura il candidato del Movimento 5 Stelle. È una balla! Non perché lui non l'abbia detto, non perché Di Maio non l'abbia detto, non si può rinunciare alla propria candidatura in questo paese. Chiaro? Vi è chiaro? Cioè se hai firmato, sei in lista ed è stato accettato al Ministero degli Interni, il tuo porca miseria di nuovo è là! Quindi tu vieni eletto ed è anche in una buona posizione questo Dessi. Quindi verrà eletto! Lui non ha rinunciato alla candidatura. Queste sono le fake news, le minchiate che schivavano i giornalisti e continuiamo a scrivere e a dire e crediamo alle cavolate che ci dicono gli altri e ce le mangiamo tutti. Non si rinuncia alla candidatura, quindi lui verrà eletto se viene eletto e poi eventualmente potrà chiedere al Parlamento, al Camera o al Senato di dimettersi. Vedremo se lo chiederà e vedremo se poi il Parlamento lo accetterà. Troppe volte le richieste di missioni non sono state accettate dal Parlamento. Chiaro? Punto e basta! Straordinario il pezzo del Corriere della Sera, ve lo segnalo sulla lingua che rinuncia al genere, tre casi di cretinismo. I canadesi che cambiano il loro inno perché non è in linea con i nuovi dettati del politicamente corretto sul genere perché diceva ai miei figli e non andava bene. Va bene? Inno cambiato. Non si può dire in Australia più ladies and gentlemen, non si può più dire ladies e gentlemen. Io non so che cavolo, cioè che cosa gli prende alla testa questo deficiente che ha pensato questa norma e nell'esercito inglese, secondo quello che è scritto oggi sul Corriere della Sera, bisogna togliere tutte quante le parole composte con men. Tutti i composti di men non vanno bene perché sono troppo sessisti e non rispettano la lingua che non rispetta il genere. Una roba incredibile, vogliono che si viva tutti quanti ad Istanbul. Istanbul che è la città, non a caso, dove è stato fatto proprio il manifesto sulla parità di genere. Oggi non ne parla, di altro parla in un'intervista Erdogan a Maurizio Molinari sulla stampa, intervista non così brillante se non per due passaggi. Il primo in cui lui dice che vuole entrare nella UE, io direi che possiamo anche aspettare un pochino prima di far entrare la Turchia nella UE per 1500 motivi diversi e la seconda, come nota giustamente Molinari, ha un certo entusiasmo ed emozione quando parla della sua religione Erdogan alla guida della Turchia dal 2003, l'idea che un presidente di un importante stato sia così confessionale, beh forse un pochino di timore ce lo mette, soprattutto di una confessione che si potrà dire una confessione che mi sembra la più secolarizzata che ci sia, cioè quella musulmana, non per i laici musulmani che non hanno nulla a ca' vedere con quella secolarizzazione che talvolta invece un certo tipo di musulmano vuole che, confessionalismo che qualche tipo di musulmano vuole per i propri stati. Direi che per oggi è tutto, vi invito a andare sul mio sito nicolaporro.it per ogni informazione aggiuntiva sulle questioni che riguardano il caso del raid di macerata e ovviamente se vi piace questa zuppa di porro condividetela perché oggi con il nuovo algoritmo di Facebook è l'unico modo per espandere la propria rete di amicizia e far sì che più gente possa avere un'informazione diversa rispetto a quella diciamo ordinaria. Ciao, buona domenica!